Credo che nel business l'unica cosa che ci accomuna a tutti, in tutti i settori, è proprio che siamo qua per trovare il valore, cercare valore, creare valore per le aziende. Oggi è molto interessante perché intanto ci accomuniamo a settori per noi abbastanza poco, come dire, pensabile che noi ci sia così, si abbia delle esigenze così simili a altri settori. L'altra parte è che in un mondo come internet stiamo facendo cose importanti nelle operations nel nostro mondo, nel settore del vino, ma penso che i tecnicismi verso la marginalità si diffondano molto velocemente nel mondo dell'internet. Allora, tramite anche questi aspetti di servizio ai mercati, sicuramente andare a cercare dove noi facciamo la differenza per poi mantenere un valore anche nel corso degli anni, probabilmente è un'ottica che dobbiamo un po' sviluppare meglio. La figura dell'operation manager nel mondo del vino, 20 anni fa, quando iniziai a parlare di servizi al commerciale, certamente era poco compresa. Si pensava a quell'epoca solo a migliorare la qualità, che indubbiamente ce n'era un primario bisogno. Oggi la verità è che la qualità è talmente elevata, mediamente, che la differenza tra il prezzo e il costo non è così molto importante. Allora ecco che andare a analizzare nella catena, fin dalla programmazione del prodotto iniziale alla distribuzione sui mercati, dove andare a ottimizzare, non c'è dubbio che ha un valore molto maggiore rispetto a prima. Il mercato americano è un mercato molto importante, non c'è dubbio che loro hanno anche una cultura molto avanti, mediamente, per cui chi beve vino è in realtà un conoscitore del prodotto. Quindi noi italiani abbiamo talmente tanta differenza da una regione all'altra che più ci conoscono e più abbiamo facilità a proporci. Loro hanno poi un reddito importante, che possono scegliere vini anche importanti e quindi certamente siamo molto attenti, anche se non vogliamo dipendere dagli Stati Uniti. Nel nostro caso non arriva al 20% la percentuale di esportazione negli Stati Uniti, però ecco certamente è un mercato molto importante. Grazie mille! Grazie a tutti